Il primo giorno? Sì Senti, lo sai che adesso dovrai studiare? Sì, ma non so studiare Qui studierai l'inglese, lo sai? Lo so Sai già qualche parola in inglese? No Anche io so una parola in inglese E che parola sai? Um, I need to pee E che cosa significa? Um, significa Devo fare la pipì E che parola in inglese? Da' più Grazie a tutti